Di Cristoforo Colombo oggi è aperta perché sabato e domenica non si lavora e questo è il tratto non interessato dai lavori che invece sono stati eseguiti su questo lato in questa maniera, cioè sono state fatte queste bandelle a terra per grattare le radici dei pini lo dico chiaramente in termini caserecci ma insomma in sostanza sono state scavate delle buche in profondità per estirpare le radici che vedete arrivavano fino a quel punto della sede stradale evidentemente e poi è stata rifatta l'asfaltatura così un po' diciamo alla Carlona perché come vedete qui non si capisce perché non farlo tutto perché saranno tre metri di asfalto in più e invece non è stato fatto qui la stessa cosa vedete sto camminando in un punto asfaltato lì invece ci sono delle toppe messe un po' così alla male peggio e non si capisce se poi questo sarà l'intervento definitivo o seppure in un secondo momento queste toppe diventeranno come si spera il principio di una nuova asfaltatura della corsia centrale perché non è tanto il discorso delle radici perché al di là della messa in sicurezza dei pini diciamo della sede stradale qui c'è un discorso che va ben oltre cioè quello della totale mancanza di manutenzione su questa strada da anni